Un minuto, un minuto alla fine del derby, Napoli in attacco, in questo momento Napoli in 10, una partita che definire spettacolare come hanno fatto i deconisti è una buffonata, buffonata, questa è una partita che il Milan ha iniziato in maniera caparbia e devo ammettere veramente forte e a tratti spettacolari. Qualcuno dice ma il Napoli ha fatto veramente cagare e io che cazzo vi devo dire, il Napoli è campione d'Italia, è chiaro che ha delle assenze importanti però il Milan ha iniziato veramente in maniera forte, io stavo pensando a una cosa, adesso mancano 30 secondi ed è finita, attenzione a quello che vi sto per dire, attenzione al gatto boomerang, attenzione. Il Milan con questa partita, ok, nelle 10 giocate Mentecvara prova l'ultima giocata, mamma mia ma come gioca a calcio a calcio, il cross per nessuno. Il Milan finita questa partita avrà incontrato nell'ordine Napoli, Juve, Inter, Lazio, Roma, Bologna e il miracolo di Magnano, quindi finita 2-2, il derby finisce 2-2, quindi il Milan non ha vinto, quindi ha pochi punti dall'Inter, 2-3 e Napoli si disperano, che cazzo si disperano per terra, quindi il Milan è a pochissimi punti dalla vetta, quindi la classifica dovrebbe essere Inter, Juve, Milan e poi dopo le altre, quindi il Milan ha incontrato Inter, Napoli, Roma, Lazio, il Bologna, che è comunque la sorpresa del campionato e la Juve, quindi va bene, insomma tutte, quindi il prossimo turno sarà Lecce, Frosinone, Fiorentina, con tutto il rispetto, quindi non lo so, il Milan ha giocato 6 partite fuori, l'Inter 6 in casa e il derby in questo momento fa la differenza, speriamo che faccia la differenza come l'ha fatta due anni fa, Quando il Milan poi aveva vinto il campionato, allora, 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 la partita come è stata? La partita ha visto un Milan clamoroso e un Meret che in mano aveva le saponette, quelle lì della bottega verde Un euro 18 saponette, perché non si può assolutamente lasciare in area libero Giroud così, tra l'altro bel clima a Milanello, eh? Stavo parlando prima col caro amico Andrea, bel clima a Milanello, eh? A un certo punto Giroud quando è stato sostituito sembrava che piangesse, adesso vabbè, poi saluta, fa disfa e Leao che insomma era, e qui si abbracciano come il vecchio gemellaggio, insomma, diciamo che Dicevo che adesso vabbè, sembra tutto un po' tranquillo, però quando Leao e Giroud sono usciti veramente clamorosi, clamorose le proteste, anche verso i compagni, qualcuno dice che poi andava messo subito Caffore, non Romero, poi comunque tra Pellegrino E una serie di cose, ma anche il Napoli, insomma, un guisse a metà servizio, senza Osiman, vabbè Due a due, secondo me sono più scontenti a Napoli, una partita che però il Napoli ha riacciuffato, con una punizione da Spadori fenomenale Tifosi del Napoli che battono le mani allo squadra, mentre nel primo tempo erano stati i fischi e anche i milanisti sotto la loro curva Milano, ripeto, che ha incontrato queste squadre e che entra in campo decisissima Sembra una partita senza storia, io avevo dato come vincente in Napoli, che per me è assolutamente superiore, poi giocava in casa, no? E invece, in maniera incredibile, Giroud fa questa doppietta con la complicità, nel primo caso, di Meret E ecco qua la classifica, Inter 25 in 10 partite, Juve 23, Milan 22, la differenza la fa il derby Napoli, quarto con 18, ma che può essere superato sia dall'Atalanta che dalla Fiorentina Ovviamente, ovviamente il Milan aveva tante defezioni, ovviamente, però la garra ce l'ha messa Giroud, ripeto, esce, ci sarà un chiarimento, non lo so, Calabria Sembrava un dramma, Calabria che ce l'ha messa tutta, devo dire, buona partita, ma il Calabria non piace buona partita Alla fine il risultato è qui un abbraccio tra Calabria e Cavara, però Calabria alla fine sbaglia Secondo me non è un attaccante, ma sbaglia con la capoccia e rischia... No, sai cos'è il bello? Parlo perché poi vedo le immagini e mi vengono in mente le cose Che tutto il Milan si lamenta, i grandi calciatori non si lamentano come Leao, come Giroud, no? Ma se alla fine Calabria, con quella capocciona lì un po' tutta monolitica, riesce a insaccarla, no? A quella capoccia di Adani e riesce a metterla dentro, perché quella è un'occasione nitida e netta Alla fine Pioli dovrebbe estroflettere, avrebbe dovuto in casa di Vittoria estroflettere il tentacolo E metterlo così, pan, lo appoggiava così, pan, ok? Sul tavolo quello dei massaggi dentro lo spogliatoio e diceva E adesso chi ha ragione? Che ho fatto questi cambi e avete fatto tutti i pagliacci E Giroud che piange, una scena vergognosa, anche Leao, no? Vabbè, comunque non sto difendendo Pioli Sto dicendo che a un certo punto la partita che sembrava saldamente nelle mani del Napoli Un po' l'espulsione di Nathan, un po' quello che volete Però a un certo punto non è più alla fine nelle mani del Napoli Ma torna nelle mani del Milan Che intanto ha fatto quei cambi che tutti hanno contestato Soprattutto i giocatori e che però porta il Milan in attacco Poi è vero che anche Magnano alla fine fa una parata importante su Kvara E nulla Resta il fatto che, poi lo chiedo a voi Il Milan mi sembra abbastanza in salute Il Napoli così così, devo dire La Juventus ieri ha vinto, avete visto come Contro un Verona veramente di livello basso Oggi l'Inter ci mette Siccome il calcio è fare gol Siccome io critico il Milan Critico il Napoli Critico nel senso di giudico, no? E l'Inter oggi ci ha messo 81 minuti Per fare un gol contro la Roma Che come expected goal fa 0,12 Quindi la Roma non avrebbe segnato neanche Neanche se prendevano la palla e la spingevano dentro con le mani Come si suol dire L'Inter ha un expected goal di due e passa In realtà fa un gol solo Allora io però dico una cosa Contentissimo che l'Inter sia prima in classifica Contentissimo che in Champions Dove è fondamentale in questo caso Passare a regione per la questione che sappiamo Questo è un mondiale i soldi Sono contento Se andiamo in Austria E portiamo a casa un risultato vittorioso Veramente è da complimenti Perché chiudere con due giornate in anticipo La questione qualificazione è veramente Una cosa dove farò Farò complimenti a tutti E quindi però ecco L'Inter in casa nelle ultime tre partite Fa 4 gol e ne subisce 4 Fa 4 gol e ne subisce 4 E fa 4 punti su 9 L'Inter è prima in classifica Perché vince un derby in maniera devastante E perché nelle 4 trasferte Fa 12 punti Questo è il motivo Allora siccome le trasferte Non saranno sempre così facili Siccome Quello che fa la differenza è il derby Io mi auguro Uno di vincere anche l'altro derby Perché in effetti oggi Dopo questa giornata Che è stata stra favorevole All'Inter Perché la Juve si sapeva che avrebbe vinto Quindi più favorevole all'Inter che alla Juve Il pareggio di Napoli ci va benissimo È una giornata in cui dobbiamo gioire Domani ci gustiamo le altre partite Ma Lazio e Florentina eccetera Ma possiamo godere Però ripeto Non è una grande sorpresa Vedere l'Inter in testa Nel senso che Io ho detto che l'Inter è la squadra più forte L'ho detto da fine giugno Ancora prima che si facesse Con certi acquisti O certe cessioni Per me È una sorpresa Che Napoli e Milan Siano dietro Anche la Juve È una sorpresa Perché a me la Juve Non farà fatica A arrivare nelle prime quattro Però Mi aspettavo Che l'Inter Facesse qualcosina in più Magari bastava Ecco Mi bastava Vincere col Bologna E ci poteva stare Un passo falso Capita sempre Una sfiga cosa sola Però sai Se tu hai Se metti insieme I due punti Persi col Bologna Allora dico Beh 10 partite di cui sei in casa Tra i quali il derby Due punti Due punti più i due che abbiamo Abbiamo accumulato Un vantaggio importante Poi In Champions bene Se passiamo Incontreremo Napoli e Juve Con La tranquillità E senza L'assilio della Coppa E il voto E il voto Poteva essere vicino Al 10 E beh Se c'è da dare 10 Invece Oggi ho visto Un gioco Che alla fine Visto che Il gioco del calcio È fare azioni Per fare gol Non fare azioni Per fare azioni Mi ha lasciato C'è qualcosa Che non Non lo so Se tu fai tutte quelle azioni Non fai gol Alla lunga Qualcosa paghi E io non voglio Alla lunga Qualcosa pagare Ok Pioli intanto Litica con Orsato Va beh Insomma Per il resto Insomma Una giornata Molto positiva Poi è chiaro Che insomma Non Non lo so Non Sono Sono approfondimenti Che poi faremo Già da domani Ha quella faccia Di culo Di Di cazzo Di Serginio Di merda Sempre Con l'Inter Sempre uno stronzo Serginio Serginio Vaffanculo Finisco qua il video Serginio Vaffanculo Stronzo di merda